È una presenza massiccia quella delle forze dell'ordine a Leivi. Pattuglie di carabinieri e polizia controllano le vie del comune, uno dei cinque in tutta Italia definiti sparsi e dunque facile preda di ladri e furfanti. È il caso di questi ultimi giorni con diverse frazioni che hanno allarmato i residenti. I militari della compagnia di Chiavari per ora si curano. Non sono veri e propri furti, ha spiegato il tenente Marco Polati, ma incursioni nelle case, alcune delle quali nemmeno andate a buon fine. L'ipotesi è che ci siano una o due persone che girano sul territorio leivese con le idee un po' confuse, piuttosto che una forma organizzata di ladri professionisti. I fatti, prosegue Polati, sono riconducibili a forme di vandalismo o condotte particolari, ma senza la volontà di predare. È stata formalizzata una sola denuncia, peraltro per il furto di oggetti di scarso valore. I carabinieri invitano a non fare allarmismo, dunque, mentre i controlli proseguono con grande impiego di mezzi e uomini. Intanto alcuni leivesi si sono organizzati per segnalare quanto di strano accade a Leivi. Non sono ronde, ha spiegato il tenente Polati, ma una forma di unione tra persone che, ad esempio, con messaggi whatsapp, comunicano tra loro per segnalare cose sospette. In questa direzione l'invito è a chiamare subito le forze dell'ordine, anche per un semplice timore. Anche il sindaco di Leivi esorta a non prendere iniziative personali, ma a chiamare subito le forze dell'ordine. Segnalare con la massima tempestività, immediatezza, alle forze dell'ordine, carabinieri e polizia di Stato, ogni possibile anomalia che si verifica in questo periodo. Quindi a qualunque ora della giornata, in qualunque momento, per fatti che possono anche sembrare irrilevanti, non lo sono per le forze dell'ordine. Ho parlato anche recentissimamente con il tenente Polati e ieri con i funzionari della Polizia di Stato. Per loro è importantissimo avere anche dei dettagli, avere dei piccoli tasselli che tutti messi assieme possono comporre un mosaico utile a sconfiggere questa situazione.